L'attentata rapina violenta di Cavalino Treporti, c'è il primo fermo ed è avvenuto nella marca in carcere un 55enne pregiudicato, sospettato di essere l'autista della banda. Domani l'interrogatorio di Sandro Levac, il suo legale dice che non c'entra nulla con la vicenda di Cavalino Treporti in zona per motivi familiari, spiegherà tutto al giudice. In un video i drammatici minuti del pestaggio subito dal sindaco di Cairano San Marco nel 2019, colpito da un gruppo di nomadi, ieri la condanna di uno dei responsabili. Attimi di follia nella notte a Mogliano Veneto dove un 22enne tunisino ha frantumato i vetri di alcune auto con un tombino, è stato braccato dai carabinieri, conserveva anche un coltello. Ancora furti nella marca, stavolta i ladri erano colpiti in una casa di San Biagio di Callalta, il racconto delle vittime ce ne siamo quasi trovati davanti, ci stavano spiando. Terzo mandato, il clima tra gli alleati del centro-destra è sempre più teso, ieri sera ringa scontro tra il leghista Giuseppe Paolini e il meloniano Giuseppe Montuori. Scelta ideologica e nociva, lega ambiente all'attacco dell'emendamento della Lega che consente per legge i pane ving al di là delle normative ambientali, il carroccio replica non è il falotto tradizionale a creare il problema delle polveri sottili. Puntata da non perdere, venerdì alle 13, nello spazio dedicato alla sostenibilità con Andrea Ferrazzi, l'ospite in diretta sarà il Cardinale Zucchi, presidente della conferenza episcopale italiana, testimone di un papato, quello di Francesco, attentissimo ai temi dell'ambiente. Per i spettatori di Antena Trebona sarebbero ritrovati questi titoli del telegiornale di Treviso e dunque apriamo con la cronaca, apriamo con l'assalto armato alla casa di Cavallino Treporti perché c'è il primo fermo ed è avvenuto nella marca a Maserada sul Piave. Rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Candelù di Maserada la notte stessa dell'irruzione a Casa Biondo a Cavallino Treporti, sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria e condotto in carcere a Santa Bona in attesa dell'interrogatorio di garanzia, Sandro Levac, nomade 55 anni, è sospettato di essere l'autista della banda che in via Pordelio domenica sera ha tentato di compiere una rapina a mano armata andandosene a mani vuote per l'istintiva reazione dei padroni di casa, non prima di aver sparato a una gamba ad Alberto Biondo e aver colpito la testa con il calcio della pistola, il papà Maurizio. I lettori di Targa hanno rilevato l'opelastra intestata a Levac a poca distanza dalla casa del colpo. A una rotonda a 50 metri dall'abitazione dei Biondo avrebbe fatto scendere i complici, ma il suo difensore, l'avvocato Andrea Zambon, parla di ricostruzione erronea. Questa è una ricostruzione sfornita di ogni riscontro, nel senso che dagli atti di indagine, almeno per quanto io ho visionato, non viene nessun elemento che possa comprovare questa ricostruzione. La presenza di Levac nella zona di Cabal Ring è tuttavia fuori di dubbio. Un testimone ha segnalato al 112 di aver visto una persona agitarsi in un bar all'arrivo dell'elisoccorso, intervenuto per trasportare d'urgenza Alberto Biondo all'ospedale di Mestre. L'individuo sarebbe fuggito proprio a bordo della medesima opelastra, vettura preceduta da una lancia delta rubata a cavallino con cui potrebbero essersi defilati gli altri componenti della banda. Il difensore non smentisce che il 55enne si trovasse quella sera proprio a cavallino. Lui era andato per esigenze personali, domani lo spiegherà il giudice, comunque aveva delle ragioni oggettive per recarsi lì. Non era la prima volta che lo faceva, era stato tante volte e domani lo spiegherà il giudice. Possiamo definirli motivi familiari, ecco sì. Davanti al magistrato dunque Levac parlerà per chiarire, secondo il legale, che lui con la tentata rapina non c'entra nulla. Nella sua abitazione sono stati sequestrati, oltre alla macchina, anche dei telefoni cellulari. Non depongono a suo favore i precedenti per estorsione, furti, aggravati e truffe, ma per il difensore si tratta di questioni di poco spessore. Per quanto ne so io non ha mai fatto nulla di grave, quindi non sono reati, diciamo, che si possono ipotizzare per il Levac questi qua. Eppure per gli inquirenti il quadro a suo carico è supportato da gravi indizi. Il 55enne è dunque accusato di rapina aggravata in concorso, ma il suo legale si spinge a dire «Siamo tranquilli, non abbiamo nulla da temere». Mi opporrò anche alla convalida perché non vi sono i presupposti assolutamente per questo fermo di polizia giudiziaria, tanto meno vi sono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari che sono state chieste dal pubblico ministero. Una notizia, quella del fermo che è rimbalzata subito a Cavalino Treporti. Mi fa sentire un po' più tranquillo perché almeno speriamo che prendano anche gli altri. È un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'arma dei carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone. Se da una parte c'è un sospiro di sollievo e la speranza che vengano presi anche gli altri banditi, dall'altra per la famiglia Biondo è cambiato molto dopo domenica sera, quando i tre sono entrati incappucciati nella loro abitazione di Cavallino, aggredendo il papà Maurizio che aveva tentato di bloccarli e sparando alla gamba del figlio Alberto. Il 33enne campione di bodybuilding ora ricoverato nell'ospedale di San Donato di Piave, dove subirà un secondo intervento. Dormiamo fino a quasi la mattina in divano tutti e due, mia moglie va in camera, ma dopo quando comincia a fare luce andiamo a letto, perché ogni rumore, ogni minimo rumore mi sembra di rivivere quell'incubo. I suoi genitori? I miei genitori stanno avendo adesso, campendo un po' di più cosa è successo, perché la prima sera proprio non si sono resi conto cosa era successo. Anche il fratello di Alberto, che quella sera non era in casa, vive nella paura. Non mi sento più tranquillo come ero prima e la sera è una situazione molto molto difficile per noi. E poi c'è Alberto, che ha subito lo sparo, solo in ospedale, che rivive l'incubo di quella sera. In ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto. Noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo. Invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. Andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite, fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da circa tre anni i carabinieri hanno la possibilità di visionare direttamente le telecamere e quindi di avere accesso diretto in tempo reale e così anche altri comuni. Questa possibilità, questa funzione è molto importante per le indagini di tutti i reati e quindi noi veramente continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza, che oltretutto è anche un deterrente. Ed immagini parliamo nel prossimo servizio perché siamo in grado di mostrarvi in esclusiva le immagini del violento pestaggio subito dal sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma, nel 2019, colpito da un gruppo di nomadi. L'abbiamo raccontato ieri, il giorno in cui è stato condannato uno dei responsabili. Guardate le immagini. 11 agosto 2019, in queste immagini il pestaggio. Il sindaco di Caerano San Marco arriva con la sua auto, scende, prova a dialogare, ma la risposta è immediata. Il clima si surriscalda, nella piazzola si riunisce un gruppetto di persone. Il primo cittadino continua a provare, a parlare con loro. Sono andato lì con l'intento solo di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di Polizia Urbana. Non potevano stanziare in quell'area, ma le parole non servono. Sono momenti concitati, un'auto fa manovra e se ne va. Il nervosismo è palpabile. Il sindaco rimane vicino alla sua auto, alcuni corrono verso di lui con l'intento di intimorirlo. A quel punto Precoma fa qualche passo indietro, forse fa una chiamata ed è in quel preciso momento che scatta il pestaggio. Un gruppetto gli si scaglia contro, il sindaco cerca di fuggire, lo prendono, lo picchiano, calci, pugni. Lo spintonano tanto da farlo cadere. Il momento è drammatico. Ad agire sono più persone, ma colpirlo, uno che gli sferra un pugno e lo fa cadere nuovamente a terra. L'azione punitiva continua ancora per qualche istante. Poi si allontanano lasciando il sindaco pestato a sangue, a terra. A quel punto una seconda auto si allontana velocemente rischiando di investire la vittima. Ho subito un'aggressione violenta che è riconosciuta da tutti, anche dal pubblico ministero, dal giudice stesso e quindi sono stati condannati. Gianni Precoma torna in auto, fa manovra per andare via. I nomadi gli lanciano qualcosa contro l'auto. Poco dopo due macchine dei carabinieri arrivano davanti alla roulotte. Ieri la sentenza. Giuseppe Cari è stato condannato ad un anno e sei mesi di carcere. Deve insegnare queste persone qualcosa. Speriamo che questo anno e sei mesi che passeranno in carcere servirà anche da parte loro di fare riflessioni su come e sul modo di comportarsi. Rimangono queste immagini di una violenza inaudita. Dalla violenza di Cairano, la notte di follia vissuta a Mogliano. Guardate. Chiazze di sangue e vetri frantumati ovunque. Sono queste le tracce della notte di follia vissuta nel parcheggio dietro alla stazione di Mogliano Veneto in via 28 Aprile, protagonista un 22enne di origini tunisine, braccato dai carabinieri dopo la segnalazione al 112 di una residente. È l'una quando l'uomo, dopo aver letteralmente sradicato un tombino, sfonde i vetri di almeno quattro auto parcheggiate. Una vera e propria furia. Lo stesso 22enne si procura una ferita profonda alla mano e perde molto sangue. La traiettoria ancora visibile porta anche nella vicina fontana dove avrebbe tentato di lavarsi. Una volta sul posto i militari lo fermano nel cuore della notte è evidentemente alterato con sé a alcuni oggetti, refurtiva prelevata dalle auto e un grosso coltello a serrammanico. Il 22enne che risiede in un comune limitrofo è stato così denunciato ed è ferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Sul posto anche l'assessore comunale alla sicurezza Marco Donadel restano i danni alle auto molto pesanti e una sensazione diffusa. Poteva andare peggio perché ovviamente se il soggetto era sotto effetto di qualcosa o di alcol o di qualche sostanza magari poteva fare male anche a qualcuno. Ripeto, ho ringraziato anche prima i carabinieri per il pronto intervento e per averlo assicurato alla giustizia. E poi ancora i furti a San Biagio di Callalta questa volta. La cagnolina che abbiamo ha cominciato ad abbaiare tantissimo. Abbiamo visto una porta aperta del garage e ho detto se la sarà dimenticata mio marito. E poi vedendo nel soggiorno ho visto che c'era il balcone aperto e la finestra aperta, rotta e praticamente sono entrati da là. Non sono nemmeno le otto di sera in questa abitazione di via Veniera, pochi passi dal centro di San Biagio di Callalta, quando la signora Patrizia e il marito rientrano a casa con la cagnolina chicca di circa un anno. La sensazione netta è che solo per pochi attimi non ci sia stato un faccia a faccia con i ladri. Voi non ve li siete trovati davanti? No, no, però secondo me hanno saltato perché il cane non avrebbe abbaiato così, perché entriamo, ce lo portiamo via una cagnolina piccola. Con ogni probabilità quindi è stato l'abbaiare di chicca, ad allertare i delinquenti e a metterli in fuga scavalcando la recinzione. Per il resto il solito copione, ovvero il caos generale. Tutte le tre camere erano proprio, avevano aperto tutti i cassetti, tutti i maglioni, tutto buttato solo dove c'erano cassetti. A sparire dei gioielli, i ricordi di una vita, restano i danni agli infissi e un sospetto insidioso. Probabilmente vi stavano spiando, comunque sapevano i vostri movimenti. Secondo me sì, ma non so, così è. Secondo me sì. Dopo una notte insonne e la conta dei danni, la speranza di Patrizia è soltanto una. Che paghino quello che fanno, perché non trovo giusto entrare nelle case degli altri e soprattutto per anche la tensione che creano questo. Il prossimo servizio invece è l'appello della sindaca di San Biagio di Callalta al governo. Chiudiamo già i balconi alle sei. Anche ora dobbiamo chiudere questi balconi, che se poi vogliamo rompono anche i tapparelli, rompono tutto. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci noi? Perché non ti vivi tranquillo, con te senti queste cose. E se andai anche quando si è la settimana scorsa, ieri altro, chi ha buttato sul muro. E ora ti dici se ero a porta, mi ha buttato sul muro, c'è. Diventa difficile anche difendersi. Bravo, la roba è persa, è difficile difendersi. C'è apprensione in via Veniera, una preoccupazione che in queste settimane contrassegnate da uno stilicidio di furti in tutta la marca, sembra montare. Lei ha paura? Tanta, tanta, non mi vergogno a dirlo. A portare la sua solidarietà alla famiglia derubata è stata anche la sindaca di San Biagio, Valentina Pillona, che in tema di sicurezza vorrebbe rendere strutturale una sperimentazione avviata in autunno e durata due mesi. Il turno serale della polizia locale, ma servono risorse ad hoc, per questo la richiesta è precisa. È assolutamente un tema prioritario avere la possibilità del terzo turno per gli agenti della polizia locale. in modo da coprire quelle che sono le ore serali e che quindi sono maggiormente colpite per questo tipo di furti. E quindi ci faremo sentire con le istituzioni affinché anche i comuni più piccoli, che hanno un corpo di polizia locale ridotto, abbiano questo tipo di possibilità, che non sono solo da un certo punto di vista finanziario, ma proprio a livello strutturale. Proprio ai sindaci della marca si è rivolto ieri sera Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, ospite dell'INC per parlare proprio di furti e insicurezza. L'idea è quella di una manifestazione di piazza davanti alla prefettura. Io sento che chi è vittima di furto, magari un po' più, chiamiamolo rocambolesco, nel senso che ho veramente un vis-à-vis col ladro, tutti mi dicono, ah ma la prossima volta ci penso io. Allora lì parte, no, non farlo perché tu hai tutto da perdere, gli altri non hanno niente da perdere. Gli faccio l'esempio, che secondo me è molto lampante, di quella persona che ha dovuto risarcire le vittime del ladro a 400.000 euro, mentre la buona persona a 40.000 euro, quindi la stima delle vite è diversa tra ladri malviventi e persone buone. E allora cerco di farli tornare un attimino qua, ma quella è la percentuale ormai di voglia di farsi giustizia da sola. Perché sento un foglio di via che poi non è un foglio di via, sento un furto lì accompagnati in caserma, ma poi sono usciti dopo due ore. Quindi la gente sa che quando mi dicono li abbiamo presi, ma in realtà già la notizia è uscita e sono già fuori a delinquere. Quindi quello è il pericolo. E io quasi quasi ne approfitto, lancio anche un'idea, che è una cosa che manderò proprio una mail a tutti i sindaci e chiedo perché a questo punto non facciamo un passo tutti insieme, proprio per nello spunto dal sindaco di Breda. Facciamo tutti quanti una domenica mattina in piazza Treviso, furto in corso la situazione orecca dei ristoratori veneti e che anche loro hanno un problema, tutti i sindaci a chiedere alla prefettura un qualcosa che si muova. Perché ricordiamoci che la responsabilità della sicurezza è prefettura e il governo non è il sindaco in sé che deve solo raccogliere ai me le lamentele e la tristezza delle persone. La cronaca giudiziaria era l'ottobre 2022, l'omicidio di Fiera. Oggi al via il processo in corte d'assise. In aula hanno ascoltato seduti, uno accanto all'altro, le eccezioni dei legali. È iniziato il processo a carico di Valmil Gashi, 32 anni, dello zio Afrim Mangiuka, 51 anni. Un'udienza durante la quale sono state sollevate dai legali dei due imputati alcune eccezioni. Difficile, secondo l'avvocato Serpico, la reale ricostruzione dell'omicidio. È difficile la ricostruzione dell'omicidio perché ci sono diverse posizioni coinvolte e secondo il punto di vista della difesa il pubblico ministero non ha indicato in maniera corretta, completa e precisa il ruolo di ciascuno. Insomma, non sarebbero chiari i ruoli in quell'azione punitiva avvenuto lo scorso 12 ottobre davanti al bar Lamuse in Viale 4 Novembre a Treviso. Una rissa scoppiata fra numerose persone terminata nell'omicidio di Rajip Kolgeci, il 52enne di origine kossovara raggiunto da un fendente alla coscia che aveva reciso l'arteria femorale. Non solo, la vittima presentava anche un grave trauma cranico. Tutto questo sarebbe accaduto per il mancato pagamento di 500 euro. L'avvocato Fadalti, legale di Mangiuka, puntualizza. Tutta una serie di persone che sono qui indicate come testi, in realtà avrebbero dovuto essere all'origine coindagate del reato di rissa e oggi coimputate del reato di rissa. Ciò comporta che la loro posizione processale e quella degli odene accusati è ben diversa. Non solo, il legal in aula fa notare che il suo assistito non parlerebbe l'italiano. Con riguardo specifico al mio assistito denunciamo la mancata conoscenza e comprensione della lingua italiana e l'assenza di idonea traduzione in una lingua invece nota all'interessato. Immediata la risposta dell'avvocato che difende nove delle persone offese, comprese la famiglia della vittima. Quella è l'eccezione che mi è piaciuta di più, nel senso che ha suscitato un po' di larità in me e forse anche in chi ascoltava. Nel senso che si è scoperto oggi, cioè a processo iniziato, che il signor Mangiuka non conosce la lingua italiana. Mentre ho potuto produrre degli atti, anche atti notarili, da cui si evinceva che il signor Mangiuka, davanti al notaio, parlava espressamente e tranquillamente e comprendeva la lingua italiana. Quindi mi sembra un'eccezione anche questa totalmente infondata. La prossima udienza è fissata per il 22 marzo. Molesta sessualmente due badanti. È stato condannato a tre anni e sei mesi per violenza sessuale un 53enne disabile, residente a Susegana. L'uomo costretto su una sede di rotelle aveva messo su un sito internet un annuncio per assumere una badante. Prima si era presentata una dominicana 28enne e poi una 105enne brasiliana. Entrambe sarebbero state vittime di molesti. Il suo difensore ha già preannunciato il ricorso in appello. E adesso a Casale sul Sile un giovanissimo 19enne che entra in posta per attivare una carta prepagata esibendo un documento falso e all'arrivo dei carabinieri scappa. Si è recato nell'ufficio postale a Casale sul Sile per attivare una post pay ma al momento di presentare un documento ha consegnato la carta d'identità con un nome di un cittadino indiano rilasciata da un piccolo comune del Bresciano. Peccato che fosse assolutamente falsa. Il dipendente ha così avvertito il direttore che ha subito allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari dell'arma il giovane si è dato la fuga per le vie del paese. Si tratta di un 19enne veneziano con piccoli precedenti alle spalle. Il ragazzo è stato bloccato ed arrestato per possesso di documento di identità falso e truffa. L'ipotesi dei militari è che il ragazzo volesse attivare la carta prepagata per poi utilizzarla con lo scopo di mettere a segno truffe online. All'aeroporto Canova di Treviso nel 2023 è intercettato denaro contante per 1.312.000 euro. Illeciti valutari in aumento del 100% rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2022 il numero delle violazioni è raddoppiato ed è aumentato più del doppio la quantità di denaro contante che abbiamo intercettato presso l'aeroporto di Treviso. Raddoppiate le intercettazioni di denaro contante all'aeroporto Canova di Treviso un aumento del 100% rispetto al 2022. 1.312.000 euro, un vero e proprio fiume di contante non dichiarato quello individuato dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Abbiamo intercettato 63 persone che avevano al seguito, senza aver compilato la prescritta dichiarazione doganale, denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro. Dichiarazione obbligatoria infatti per chi entra o esce dall'Unione Europea. Un viaggiatore che si appresta a partire dall'aeroporto di Treviso deve compilare in caso di possesso di denaro per un importo pari o superiore a 10.000 euro una dichiarazione valutaria in cui indica il luogo in cui il denaro verrà consegnato. Tra le 63 persone individuate il maggior numero di intercettati, 15 sono di nazionalità rumena e subito dopo 8 i viaggiatori italiani. Controlli svolti dall'autorità per contrastare false dichiarazioni fiscali, reciclaggio e finanziamento al terrorismo, verifiche possibili anche grazie all'aiuto dei così chiamati cash talk. Nei casi più dubbi e sospetti possiamo anche ricorrere all'utilizzo di un'unità cinofila che è abilitata al riconoscimento del denaro contante. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, la strage sul lavoro ormai continua. Questa mattina il presidio dei sindacati davanti alla prefettura ha un incontro con il prefetto. Avremo avuto bisogno di risposte non ieri ma l'altro ieri. E mentre i sindacati attendono risposte dal governo sul tema della sicurezza sul lavoro, i dati parlano chiaro. Il Veneto è la seconda regione d'Italia per infortuni, di cui 101 mortali. E se stringiamo il campo, la marca nel 2023 compie un tragico balzo in avanti nella classifica delle province per numeri di incidenti mortali sul lavoro, 16 decessi, passando dal 96esimo posto a 49esimo in Italia. Oggi abbiamo incontrato la prefettura a seguito anche della proclamazione da parte delle categorie delle costruzioni e dei meccanici di due ore di sciopero successivamente a quel tragico incidente del cantiere di S. Lunga a Firenze. Un tragico crollo del cantiere a Firenze che segue la scia di già due incidenti sul lavoro nella provincia di Treviso da inizio anno. Adriano Gallo, morto scacciato da un sollevatore meccanico in un vivaio di Riese Pio X e l'operaio stradale 51enne investito da un'auto a Vazzola. Episodi riportati dai sindacati sul tavolo di confronto in prefettura per sottolineare l'urgenza di nuovi interventi. Abbiamo proposto l'introduzione della patente a punti come l'introduzione del reato di omicidio sul luogo di lavoro. L'altro aspetto è quello di mettere mano al codice degli appalti. Intervenire sulla catena degli appalti per superare il cosiddetto lavoro grigio e nero, ma non solo, proposte normative anche in merito alla coerenza dei contratti collettivi applicati. Ci troviamo in molti casi dove abbiamo aziende, faccio l'esempio, abbiamo qua il settore di ILE, applicano il contratto all'orientano dei metalli meccanici, il contratto dei trasporti, perché hanno un costo inferiore. Ma questo, applicare quella tipologia di contratto, vuol dire non dare ai lavoratori che lavorano in quell'attività la giusta formazione. Non dando la giusta formazione al lavoratore o alla lavoratrice, cosa faccio? Non gli do proprio alla persona stessa la possibilità di tutelarsi sul posto di lavoro. Uno sciopero nazionale di metalli meccanici ed ili che nella marca ha visto al primo turno la partecipazione di circa il 70% dei lavoratori interessati, una voce che grida la sicurezza. La CISL ha deciso di mobilitarsi e assieme noi diciamo di indignarsi. Quindi una grande stagione di indignazione e di mobilitazione nei luoghi di lavoro, nelle imprese, nelle aziende, sul territorio, per dire a gran voce che ora di smetterla, di far morire le persone nei luoghi di lavoro. La sicurezza deve essere la priorità assoluta. Si svolgeranno in forma strettamente privata e in forma laica i funerali di Rita Fazzello, figura storica della politica locale di Mogliano e non solo, è per decenni preside degli istituti scolastici moglianesi. Una morte, quella venuta ieri per un improvviso aggravamento delle sue condizioni che è stato un profondo cordoglio in tutta la comunità di Mogliano ma in tutta la marca. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo, scusate, 2 giugno. Originale di Roma, laureata in filosofia e la sapienza, nel 1967 iniziò la carriera di insegnante trasferendosi a Mogliano nel 1970. Fu assessora alla sicurezza sociale e alla programmazione sanitaria nella giunta di Ugo Bugin negli anni 80. Nel 1984 divenne preside delle scuole medie Rossi e mantenne questo incarico di dirigente scolastico dal 1998 anche delle medie Sava fino al 2012. All'intenso lavoro per la scuola partecipata, inclusiva e solidale, si è sempre affiancata alla sua militanza nel centro-sinistra. Tra il 1998 e il 2005 è stata consigliera provinciale d'opposizione. Dalla 2006 per due anni vice sindaco di Mogliano. Nel 2009 fu candidata a sindaca per Mogliano Democratiche e sfiorò per una manciata di voti il ballottaggio. Nel 2014 venne rieletta in consiglio comunale e ha partecipato fino al 2019 ai lavori dalle file del gruppo misto. Poi intensa anche attività giornalistica con l'eco di Mogliano e non solo. Lascia la figlia Martina e il marito di seconda nozze Claudio Baccarin, storico preside a Paese. Negli ultimi anni pur dovendo affrontare una malattia ha partecipato stabilmente alla vita cittadina, ha dato un enorme, importante contributo in ambito sindacale nel settore della scuola. Davvero una perdita per tutta la comunità di Mogliano e anche per la marca con la morte di Rita Fazzello. Come dicevamo i funerali verranno svolti in forma strettamente privata. La politica è il terzo mandato che resta un punto cruciale e un tasto dolente nel centro-destra soprattutto tra Lega e Fratelli d'Italia se ne ha avuta testimonianza ieri sera a Ring. Tensione alle stelle tra Giuseppe Paolin e Giuseppe Montuori. Guardate. Noi siamo una forza politica da tanti anni. Fratelli d'Italia è arrivata ieri, ha avuto un grande exploit come l'ha avuto Renzi, come l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, come l'ha avuto la Lega stessa. Adesso tocca a Fratelli d'Italia. La ruota gira, questo è il concetto. Esatto, la ruota gira, però adesso se continuano... Non hai ragione se la ruota gira, no? Perfetto, ma se la ruota gira... È girata adesso state... Sì, ma non si può pretendere di governare una regione perché avete il 30%. Beh, io sono tra quelli che sostiene. Se volete la presidenza della regione, vi candidate e noi correremo il nostro candidato. Ma lei si ricorda come fu scelto Zaia? In che senso? Quando fu scelto Zaia, come fu scelto? Nel 2010. La candidatura di Zaia? Da chi fu scelta? Come fu scelto Zaia, candidato? Qualcuno se lo ricorda? Se lo può ricordare? Ricordocelo. Fu scelto da un accordo. A me certo. Cioè, fu scelto con un accordo e Forza Italia e all'epoca Alleanza Nazionale, che erano due partiti molto più robusti, rispetto alla Lega, che era un partito in ascesa, ma non era sicuramente con i numeri che aveva oggi, aveva una piccolissima percentuale, molto più piccola di quella che ha Fratelli d'Italia oggi, fu deciso di candidare Zaia. La piccola percentuale, in Veneto, forse la piccola percentuale, ce l'ha sempre avuta Alleanza Nazionale, prima? Sì, avevamo il 10, il 12, certo, certo. È una piccola percentuale. Non ricordo che Forza Italia aveva il 30. Non c'entra, questo non vuol dire, non vuol dire... Come non vuol dire? No, ma fermo. Si può cambiare, non vuol dire? Certamente si può cambiare, però uscire e dire, pretendere di avere la Regione, per me, il comportamento che voi avete tenuto su più di qualche comune in questi ultimi tempi, parlo anche della campagna delle amministrative del 2023, non ci... io parlo di fair play, io ho visto conferenze stampa dove Forza Italia presentava degli ex senatori nostri, voi avete fatto dei candidati sindaci, ci avete preso degli espulsi e li avete candidati, questo secondo me non è fair play fra alleati. Insomma, la tensione resta e poi domani c'è anche il voto alla Camera in Commissione Affari Istituzionali. A proposito della Camera, torniamo a parlare dell'emendamento della Lega, peraltro passato alla Camera, l'abbiamo raccontato ieri, che consente per legge i pane e vin al di là delle normative ambientali, c'è Lega Ambiente all'attacco ma il carroccio replica, non è il falotto tradizionale a creare il problema delle polveri sottili. Invitiamo le istituzioni a riconsiderare questa decisione intrisa di ideologia e a promuovere piuttosto politiche attive con adeguate risorse per soluzioni sostenibili che rispettino sia le tradizioni che l'ambiente. La reazione di Lega Ambiente per bocca del Presidente Veneto Luigi Lazzaro è immediata. Nel Merino l'emendamento salva pane vinta, argato Lega e passato alla Camera, che consente per legge l'organizzazione dei falò tradizionali, di fatto in deroga alle normative ambientali e quindi alle rilevazioni di polveri sottili nell'aria. Tradizioni importanti ma da salvaguardare in modo diverso secondo gli ambientalisti, pensando a soluzioni alternative e sostenibili. Polemica sterile per il diputato trevigiano del Carroccio Gian Angelo Boff, tra i firmatari dell'emendamento. Non è l'evento, la rievocazione dell'evento tradizionale che avviene da noi il 5 di gennaio che accentua o crea il problema, diciamo, il problema è ben altro. Qui si tratta di rievocazione di quella che è una tradizione centenaria, per non dire millenaria, sui nostri territori che è giusto che continui. La legge, con l'emendamento della Lega, è passata in prima battuta alla Camera e sta per compiere lo stesso percorso al Senato. Non significa, precisa Boff, il via libera al panevin selvaggio, ma cambia un concetto cruciale. Si inverte il principio, mentre oggi, prima di questa legge, erano vietate e quindi bisognava fare le ordinanze per riuscire a farle, adesso sono, di fatto, verranno discipline, saranno previste per legge e quindi potranno poi esserci dei motivi contingenti nel caso di posizioni particolari o dove potranno esserci pericolo di incendi, persiccità eccetera, dove potranno essere messe magari delle ordinanze per altri motivi, per magari non farli, però dovranno esserci delle ordinanze motivate. Non basta però assedare la polemica di legambiente che sottolinea una contraddizione evidente, ricordando come l'accordo di Bacino Padano tra le regioni del nord Italia, avvolte dallo smog, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e che vede anche il governo coinvolto, include tra i divieti per ridurre l'impatto nei periodi di alta concentrazione di inquinanti anche lo stop ai roghi all'aperto. Intanto, mentre le prologo esultano, tra i cittadini l'umore è decisamente variabile. Salvare la tradizione, farne po', farne di meno, ma salvare la tradizione. Penso che siano importanti le tradizioni, ma penso che sia importante anche il saper vivere, perché sono di questi giorni le notizie preoccupanti non solo del Veneto, ma anche della Lombardia e tutto il nord. Si potrebbe appunto rinviarle quando è possibile, comunque rispettare le tradizioni. Le tradizioni sono importanti, ma non quanto il nostro ambiente. Con le tradizioni si va pure a rotoli, è ora di metterle da parte se sono nocive. Il proposito di ambiente è una puntata da non perdere, quella di venerdì alle 13 nel consueto appuntamento con i dialoghi sulla sostenibilità con il nostro ospite di sempre, Andrea Ferrazzi, perché l'ospite di venerdì in particolare in diretta sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, testimone di un papato, quello del pontefice Francesco, attentissimo come non mai ai temi cruciali dell'ambiente. Io gli chiedo innanzitutto come mai sia lui come presidente della CEI e poi il papa Francesco stesso, hanno deciso di mettere il tema dell'ambiente, del clima e delle future generazioni al centro della loro azione. E sarà interessantissimo con lui dibattere appunto di questa questione. La chiesa del 2024 che guarda la sostenibilità come un punto fermo cruciale per il futuro prossimo di tutti. L'appuntamento ormai consolidato del venerdì alle 13 nella nostra prima edizione con il presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti, Andrea Ferrazzi, si arricchisce di un ospite importante, il cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale italiana. Con lui avremo la possibilità di approfondire il motivo per cui, per esempio, Papa Francesco sta spingendo tantissimo, addirittura scrivendo un enciclo che è proprio una esortazione epistolica sul tema del clima, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che il cardinal Zuppi, oltre che essere presidente della CEI, è anche uno strettissimo collaboratore del Papa e quindi il fatto che ci abbia messo a disposizione il suo tempo è assolutamente un regalo per noi e per tutti i telespettatori di questa importante trasmissione settimanale che ogni settimana, appunto il venerdì dalle 13 alle 13.30, ci dà modo di affrontare queste questioni così cruciali. A due mesi dalla storica visita di Papa Francesco in quella Venezia che è il simbolo del delicatissimo equilibrio tra ambiente e società, la testimonianza fondamentale del Cardinal Zuppi è un altro tassello del mosaico che i dialoghi sulla sostenibilità stanno costruendo settimana per settimana per voi telespettatori di Antenna 3. Imprenditori, scienziati, tecnici, politici, esperti, ogni sette giorni una voce per prendere coscienza di una scommessa non facile ma necessaria e soprattutto vantaggiosa per noi, per le nuove generazioni e per l'economia. Un'altra puntata da non perdere. Appuntamento venerdì prossimo, dunque a venerdì 23 febbraio dalle 13 alle 13.30, in diretta qui ad Antenna 3 insieme al Cardinal Zuppi. Sognatevi dunque questo appuntamento, noi adesso andiamo nel Bellunese. E parliamo anche di opere e ambiente perché a proposito dell'Olimpiade 2026, questa mattina poco prima di mezzogiorno gli invitati della Commissione Tecnica del CIO con i componenti della Fondazione Milano Cortina di Simico e dell'impresa Pizzalotti sono arrivati per l'annunciato sopralluogo a Cortina. A fare gli onori di casa il Presidente del CONI della Fondazione Mico Giovanni Malagò e il Sindaco di Cortina Lorenzi. L'arrivo della delegazione nella giornata in cui sono iniziate le operazioni di abbattimento dei larici secolari che lasceranno spazio al cantiere per la costruzione della pista da Bob. Prima tappa per i convenevole l'Alexander Girardi Hall, poi in Pulmino via verso le piste da sci il Palaghiaccio e l'area di Ronco dove sorgerà la nuova Eugenio Monti. Il resoconto del sopralluogo sarà fornito alla stampa venerdì prossimo a Venezia e noi ci saremo e la racconteremo in diretta. La sanità si è celebrata ieri la quarta giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e volontario. A Belluno la si è voluta ricordare con un incontro importante in Prefettura. Quarta giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e volontario. Un appuntamento che coincide con il quarto anniversario dall'inizio del contagio da coronavirus nei nostri territori e che Lion ha voluto ricordare con un partecipato convegno. Il Lions ha pensato questa giornata come un momento di celebrazione per tutto il personale sanitario impegnato in occasione della pandemia perché oggi è il 20 febbraio ed è la giornata nazionale degli operatori sanitari, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché del volontariato. Ad ospitare l'evento la Prefettura nella prestigiosa Sala Zannardelli del Palazzo dei Rettori. Innanzitutto un grande ringraziamento sentito di cuore, lo faccio come Prefetto e lo faccio come cittadino a tutta la classe medica, sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale e al volontariato. Non soltanto per l'enorme lavoro che hanno condotto durante gli anni della pandemia ma io direi voglio attualizzare il messaggio sottolineando l'impegno, la dedizione che profondano quotidianamente. Una giornata commentata anche dal Presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato come se l'ammirazione per l'operato nei giorni del coronavirus è ormai un debito d'onore, la riconoscenza per la risposta che gli operatori assicurano ogni giorno a noi cittadini è un dovere che abbiamo come società. Io spezzo una lancia anche per i volontari della protezione civile, che sono volontari quindi l'hanno fatto gratuitamente, hanno garantito dietro le quinte il supporto alla sanità tutta la logistica, consegna le mascherine, punti tamponi, punti vaccini è una cosa che non è uguale in Italia. Questa giornata è molto importante perché mette in evidenza con numeri che questa provincia particolarmente impegnativa, ancorché bellissima e difficile, è una provincia che si sviluppa su un quinto della superficie del Veneto ma conta un venticinquesimo della popolazione del Veneto, durante il Covid per effetto della coesione tra le istituzioni ha avuto delle performance molto migliori rispetto ad altri contesti. Si scaldano i motori in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Belluno, anche il centrodestra in anticipo rispetto alla scadenza naturale ha svelato la propria lista che è composta da due esponenti di Fratelli d'Italia, Massimo Bortoluzzi e Silvia Calligaro, due di Forza Italia, Alberto Peterle e Alessio Zanella, tre esponenti della Lega, Denise Guadagnin, Marzio Soviglia e Alberto Vettoretto e tre delle liste civiche di aria centrodestra, Donatella De Pellegrin, Sara Lavedere e Carlo Alessandro Zisa. Competenza e rappresentanza territoriale capillare le peculiarità dei candidati individuati che si contenderanno i posti nel prossimo Consiglio Provinciale. Le elezioni si svolgeranno il 16 marzo in contemporanea a Padova e Verona. E adesso parliamo di coesione sociale, crescita e innovazione è il progetto Culture Link. Oltre il semplice intrattenimento, il nuovo corso della Fondazione Teatri delle Dolomiti allarga i suoi orizzonti a tutte le realtà della provincia per favorire il benessere della comunità. Con Culture Link, il progetto selezionato dalla Fondazione Cari Verona lo scorso giugno, l'impegno dichiarato è quello di abbracciare il cambiamento e di costruire un futuro più ricco di opportunità per le generazioni future. Il principio di Culture Link è stato sempre quello di fare rete, di riunire associazioni comuni in un unico ambito che è l'ecosistema culturale bellunese per armonizzare, fare un calendario unico che possa portare al di fuori della provincia e valorizzare tutto quello che di bello c'è. 38 i partner pubblici e privati, spazio aperto a chi crede al progetto rivolto ai giovani bellunesi e ai loro talenti come Cortina Banca che grazie al protocollo sottoscritto con Palazzo Rosso sosterrà economicamente Culture Link per i prossimi tre anni con un impegno complessivo di 120 mila euro. Con Culture Link noi riteniamo di dare un sostegno, ovviamente non possiamo risolvere i problemi del mondo, ma un sostegno concreto per fare in modo che anche da un punto di vista culturale ci sia sempre più unione, si riesca a fare sempre più rete e le associazioni teatrali principalmente, ma comunque tutto quello che ruota intorno alla cultura possono unirsi sempre di più per esprimere al meglio le loro potenzialità. Io ringrazio Cortina Banca per l'attenzione e la sensibilità che dimostra e attraverso questo protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto l'anno scorso ormai siamo alla stesura, la condivisione del secondo progetto a favore della città capoluogo ma anche di un territorio. Lo scopo è quello di fare della città capoluogo non solo un contenitore ma anche un esportatore di talenti. La potenziale base economica garantita a Culture Link dai bandi di Fondazione Cari Verona supera il milione di euro. Fondazione Teatri, su richiesta di Cari Verona, spiega Ferigutti, dovrà modificare nuovamente il proprio statuto. Fondazione Cari Verona, una delle prime cose che ci ha chiesto è stato quello di allargare chiaramente lo statuto a tutta la provincia per rendere molto più forte lo stesso progetto ma anche per dare giustamente quel sostegno alla fondazione di un Consiglio di amministrazione che possa essere magari più bilanciato di quello che è oggi. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. La fase stabile sull'Italia alle ore contate, arriva un'intensa perturbazione e il tempo peggiora. Il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto. Al mattino avremo piogge sparse con il passare delle ore via via più diffuse e anche consistenti sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo, minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 9 e 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo nuvoloso e dal pomeriggio avremo precipitazioni ovunque, anche abbondanti sull'area montana, più sparse e moderate in pianura. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Piogge dapprima deboli, poi più forti. Neve oltre i 1500 metri circa. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 11-13 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.